Food, sport, giochi, musica e spettacoli. Da venerdì 8 a domenica 17 luglio torna per la sesta edizione l'evento estivo più atteso da Borgo Santa Maria. Pozzo Pazzestate ritorna in quel parco dei Tigli che due anni fa aveva lasciato per motivi legati alla pandemia e che mai come ora vuole tornare a riempirsi. Tante attrazioni sia per i più grandi che per i più piccini, in dieci giorni di festa paesana pensata per tutti. Un evento che è stato reso possibile grazie all'organizzazione dei consiglieri di quartiere in collaborazione con BCC Banca e il patrocinio del comune di Pesaro. Appuntamenti principali sicuramente sarà l'inaugurazione dell'area bimbi che si terrà ovviamente venerdì 8. Poi dopo abbiamo una serie di spettacoli sicuramente per ogni età, tipo nei weekend si ballerà. Il primo weekend è dedicato alle persone più grandi diciamo con dell'iscio, comunque della musica italiana. Poi il venerdì invece successivo, sempre per quello che riguarda gli spettacoli live, ci saranno i BDA, quindi un concerto. Poi i karaoke la sera dopo che sarebbe il sabato, 16 dove sarà una cena remember. La cena remember cosa sarebbe? In poche parole tutti i ragazzi che frequentavano la casina del Bosco che era il locale del parco dei Tigli saranno presenti e insomma fanno questa cena per ritrovarsi un po' insieme, quindi un'occasione per stare tutti in compagnia. Durante la settimana come dicevo spettacoli delle associazioni del territorio ma anche di associazioni nel pesarese, comunque quindi ballo, canti, tradizione, insomma tutto quello che è a Cineforum, anche perché quest'anno abbiamo preso spunto anche un po' da Pesaro, dalla città per la proiezione di ET per il quarantesimo anniversario del film. E poi alla fine l'ultima sera ovviamente con le finalissime del torneo della casina che è l'evento diciamo sportivo tradizionale, poi spettacoli ovviamente per l'ultima serata, live sempre concerti e spettacolo pirotecnico. Ovviamente c'è sempre la possibilità di mangiare, abbiamo il nostro stand. Eravamo un po' tutti emozionati, un po' dai due anni di fermo di festa, un po' perché insomma uno tra gli organizzatori più di cuore di questa festa era mio padre ed è stato uno dei trascinatori che ha riportato la festa in auge dopo il 1985, grazie alla collaborazione di tutti questi ragazzi super energetici diciamo. Quindi ci siamo trovati un po' senza leadership e a dovere in qualche modo improvvisare ognuno, mettere a disposizione dell'altro le sue competenze per creare lo stand del food migliore possibile da offrire alla festa, per ricostruire il torneo, per dare spazio ai bambini, alle famiglie, per scegliere gli spettacoli migliori e anche magari non avendo un grande budget insomma a coprire queste spese. Quindi dai è stata una bella avventura, adesso siamo quasi pronti, siamo quasi arrivati, speriamo che vada tutto bene. L'amministrazione appunto vuole assolutamente dare sostegno e aiuto anche a tutta la periferia della città, quindi benvengano questo impegno da parte di volontari che vogliono mantenere la propria tradizione. Quindi noi come comune ci siamo, come quartiere devo dire si sta dando tanto da fare, molto attento, arrivano anche tante segnalazioni da parte del Presidente perché appunto crede veramente nel ruolo che ricopre, quindi è fondamentale dargli una mano a tutte queste persone che sono dei volontari, quindi ritorno a ripeterlo perché stanno facendo un grande lavoro e quindi in questa settimana dedicata a Pozzo Pazza Estate speriamo che tanti pesaresi o anche turisti rispondano ad andare a visitare anche questa parte di Borgo Santa Maria e Pozzo.